Mi rimanda ossessiva. Fugo a 300 all'ora, atterrito dagli inseguitori che mi vogliono rubare la vittoria. La pista mi rimanda ossessiva la tortura dei motori. Entro nella curva 150 all'ora e ho il tempo di pensare al mio cadente genitore che invoca ad ogni costo che io vinca. Senza la vittoria non ho affezzi, né dolcezze, né gioia, né bellezze. Per obbedire alla moto eseguo la violenza perché la velocità è violenza. All'interno mi supera chi in classifica è di più. Mi abbasso alla più bassa evoluzione possibile e lo risorpasso, pelle contro pelle, a 200 all'ora. Quasi ci uccidiamo nel silenzio della mia coscienza. Poi finalmente giunge la vittoria bagnata di spumante. Adesso mi chiedo, c'è molta differenza tra noi e la corrida, tra noi e il pugilato, tra noi e la caccia? Anche noi centauri non usiamo la moto come un'arma per annullare l'avversario?